Salve a tutti, è stato pubblicato di recente il mio lavoro scientifico su una rivista internazionale Journal of Clinical Case Report, assieme in collaborazione, studio in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, con il professor Del Prete Antonio e il dottor Salvatore Del Prete, sull'impatto ambientale e le patologie oncologiche. Abbiamo studiato un case report, quindi il numero è ancora un piccolo gruppo di pazienti oncologici, sono 15, afferenti al mio ambulatorio di medicina generale di prima diagnosi. Che cosa è stato analizzato su questi pazienti di prima diagnosi? È stato analizzato, è stato il livello di metalli tossici su contenuto biologico. Il prelievo è stato fatto su matrice del capello, è stato analizzato perché è stato visto dal prof. Del Prete campione più riproducibile, più attendibile e anche il prelievo ben tollerato dal paziente stesso. Analizzando questi pazienti in prima diagnosi, quindi senza contaminazione di chemio di radio, quindi appena scoperto il tumore, abbiamo visto, abbiamo tratto le somme. Questo studio, ci tengo a sottolineare, è stato fatto in un numero di pazienti maschi dai 37 ai 74 anni, nella stessa area geografica, il comune dove io lavoro, esercito come medico di medicina generale, quarto, provincia di Napoli, quindi in piena terra del fuoco. E questi pazienti che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che su 15 pazienti, 9 presentavano livelli tossici di molibdeno e l'altra fetta di taglio e di piombo. Inoltre ho mappato geograficamente il comune di quarto in base chiaramente alla geolocalizzazione di questo paziente e li possiamo dividere in due blocchi. Pazienti affetti vicino la ferrovia, ovviamente i pazienti sono stati presi random in base purtroppo per loro, in base all'insorgenza del tumore, quindi è casuale ovviamente la loro scoperta e la loro localizzazione all'interno del comune di quarto, ma traendo le somme abbiamo visto che una parte sono concentrati attorno alla ferrovia di quarto, quindi probabilmente hanno livelli di tossicità di molibdeno, quindi patologie da assorbimento d'aria, invece perifericamente a quarto, quindi mappando, presentavano livelli di tossicità di taglio e piombo, quindi molto probabilmente contaminanti d'acqua. Chiaro che è un case report chiamato Progetto Rosella, nata dall'idea di una mia carissima familiare, mia zia, deceduta di cancro, è chiaro che questo modello è ovviamente riproducibile in tutte le aree contaminate o tutti i comuni che volessero studiare le cause e quindi correlare le cause di patologie oncologiche a quelle ambientali ed eventualmente attivare delle bonifiche, perché questo è il fine ultimo del lavoro. Una parte, che poi abbiamo mappato vicino alla ferrovia, soprattutto l'incidenza sul polmone. Quelli invece più perifericamente alla ferrovia d'assorbimento, quindi colon, vescica e prostata, e avevano livelli di tossicità per il taglio e il piombo, quella parte probabilmente d'assorbimento di acqua e da genti inalanti invece il molibdeno, che poi facendo una ricerca accurata, il molibdeno è un metallo pesante che grazie al quale vengono effettuate molte leghe e quindi anche su percorso ferroviario, ma tubi, è un metallo molto molto prezioso per questo.